Oggi dalla Chiales Tools ti presentiamo la nuova affilatrice Drill Doctor. Guarda, è un prodottino semplicissimo, perché è a prova di stupido se vogliamo. Lo puoi utilizzare all'interno dell'attività, lo puoi utilizzare a casa tua, puoi fare cosa vuoi. Cosa serve? Serve per affilare le punte. E qui, in base alla dimensione della punta, possiamo regolarlo. Mi spiego meglio, come fare per affilare bene una punta? Infiliamo la punta, per far sì che abbiamo il giusto posizionamento. Andiamo contro, ok. In questo sistema qua la chiudiamo, ottimo. Quindi abbiamo la giusta distanza della punta per andarla a affilare. Dentro qui abbiamo una molettina diamantata, per fare la punta. Accendiamo. E semplicemente con questo movimento... E il gioco è fatto. In questo sistema qui abbiamo una punta perfetta. In un attimo. E abbiamo le due, chiamiamole, eliche, con la giusta gradazione. Con questa macchina qua, se decidiamo di fare un'elica più aperta o più chiusa, possiamo regolarcelo, regolarci i gradi, solo ed esclusivamente spostando avanti o indietro il pezzo. Non si dovrebbe dire, ma è una figata. Non ci crederete, ma ogni punta che è affilata con questo sistema, taglia veramente bene. Che ha le stools? Una risposta a ogni tua esigenza.